Salve a tutti ragazzi e bentornati su questo server 2 Io intanto sgozzo gente davanti ai miei nemici Nessuno si fotte, si fotte di niente proprio Ok, credo che le donne più scure di carneggione siano estremamente buggate Adesso caccio la lama e ti ha coltello, ecco Guarda, quella non vede niente Mi nascondo dietro a questa banana Ok, ok, ce la faccio, ce la faccio Ce la faccio Ecco, ecco, l'ammazzo, l'ammazzo Ma è cieca? Ma Gesù Ma perché? Ma non mi vede, ma sei cieca? Vediamo sotto la... ciao La pucchiacchia, la pucchiacchia Vabbè, uccidiamola dall'alto Ecco qua, perfetto Ho fatto una strage C'è ancora quella, voglio velo... che cazzo è questo? Ah, delle... Vediamo se mi vede Ciao Dai, ti devo ammazzare Ma... Ma... Ah, si è girato Ah, ok, fa ancora le scintille, ma che cazzo? Ma dai Vabbè Guardate quanti... quanti... Pappagalli E... Che cosa ho preso? Non posso mirare nemmeno Vediamo se la prenda Niente, i pappagalli... L'ho preso in testa, dovevi morire Ma io non ci credo Non può essere così... così brutto questo gioco Ma... Ma i pappagalli... Ma i pappagalli non se ne vanno C Premi C per fare che cosa? Devo bere Rebeviamo Oh, vedi quanto è bella Come non posso bere? Mo ho bevuto Bevi un altro po', dai Ho bisogno di acqua Mo se ne sono andati i pappagalli Vabbè Ok Adesso dove devo andare? Vabbè Andiamo di qua Dovrebbe esserci la tigre della Malesia Da qualche parte Non ho idea di dove andare in effetti Quindi gireremo a zoo Questa l'ho già segata Ok, da qua vengo Quindi bisogna andare a questa parte Ok, qui ho fatto secco Ok, di qua allora Ok, eccoci Ecco qui Qui c'è un fuoco Non si salva come Dark Souls No Make... Make a fire Ah, si può fare un fuoco? Ma che faccio a fare un fuoco? Ragazzi, come si fa? Un fuoco Non ho niente per fare un fuoco Use Use a banana Possiamo usare una banana Ah, ok Possiamo Enter to create Uh oh Uh oh Che cazzo stai facendo? Ah, si è bloccata la visuale Non posso D, D Devo premere D Ah già Che è per creare le bende Mamma mia Perché ora le bende Devo perdere anche tempo Capite? Press to create Old pistol ammunition Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Vabbè, non c'è un qualcosa Che mi spiega come fare il fuoco Da ste parti No, vabbè Magari lo faccio In un secondo momento Adesso c'è il super mega panterone Qui, me lo ricordo Dopo Dopo il Come si chiama? Eh Che cazzo è? Ho sentito un rumore Eh Dopo la piramide Chiamiamola così La piramide maya Azteca Quella che cazzo è Eh C'è la parte dedicata Vediamo se questa mi attacca Vediamo se Ah sì Ma perché? Vabbè Non mi faccio più domande Perché non ha senso Versi domande su questo gioco Ok, siamo arrivati Abbiamo fatto giro giro tondo? Non è possibile C'erano delle mosche qui Delle mosche Ma non dovevo fare il giro giro tondo Ma Oh, questo che roba è? Ah, delle penne Eh Ok Non dovevo Ritornare qui Ma Forse di qua Prendiamo le banane Prendiamo tutto quello che c'ha da prendere Ma qui Qui c'è un Ah no Ma di qua sono arrivato Che palle Merda 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 Mi sta ammazzando Mi sta ammazzando Oh Levati dal cazzo Ok L'ho presa giusto in tempo Ok Adesso la squartiamo per bene Oh E questa è l'azione più Più lunga di tutto il gioco In effetti per squartare ci vuole un po' Ma è un gioco Cazzo Ok Ok tutto ma Si muove ancora Guardate Guardate la zampa Guardate Guardate quanto l'ho squartata male Mamma mia Fa paura quasi Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Raghezzuoli Vediamo un attimo Oh Qui c'è un altro dell'alieno Ah Qui ci stanno anche le scimmie di merda Allora 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 Cerchiamo di essere stealth ragazzi Io sono Sono stealth Dai cazzo Non lo raggiungerò mai Faffanculo Due colpi in faccia Uomo di ferro Vedrai che Vedrai che ti prendo Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Qui ci sono Eccole le scimmie maledette T'ammazzo Scimmie di merda Ah Ti è piaciuto Vediamo se posso squartarti ancora di più No Oh Scimmia del Cango Del Congo Del Cazzo Oh E mori Chi è qualcuno che mi insegue Oh qui c'è un fuoco Create a leather flask Ok Posso creare una leather flask Mi sta dando sottomissioni Come se piovesse Oh qui c'era un gran problema però Perché Sta cosa con gli specchi Dava un sacco di problemi Vabbè Questa la risolvo Sperando che Non mi blocco Perché se mi blocco Sono cazzi Ok L'ho quasi risolto Questo Enigma Sì Chiamiamolo così Devi girare degli specchi Ok Ok Adesso entriamo dentro Oh C'è un tubo Cosa ti aspetti Di trovare in una cosa Zteca Un tubo No È normale Ok Procediamo Oltre Qui non c'è niente più Sono delle Pietre Bones Quindi ossa E questa Anch'io la voglio questa Quanto è brutto il fuoco È lava praticamente Ok Basta così Niente di più Qui c'è qualcuno Ah Soldi No Old pistol Ammonation Sembrano soldi Ok Qui si muore Quindi devo fare attenzione A scendere Le scale più ripide del mondo Ragazzi Le scale più ripide del mondo Non posso correre su queste scale Altrimenti salto Guardate Ok Solo nella prima parte succede Bene Adesso non so più cosa fare Perché Diciamo che Le mie conoscenze di questo gioco Si fermano qui Quindi C'è della legna Magari si può fare un fuoco Della legna O c'è altra legna Proviamo a vedere Se riusciamo a fare un fuoco Come si fa Ragioniamo ragazzi Come si fa un fuoco Con dei Legnetti No Ah lo posso droppare Non lo posso mettere Allora Con dei Legnetti Dicevamo E con I parrot bones No Io ci metterei Questo E questo Che cazzo è L'interiore di panther Niente No Vabbè Sì Bello Bello Bellamente Bello Ok niente Dobbiamo trovare L'altra parte Del Ok c'è qualcosa Lì Ci siamo Ci siamo Attenzione ragazzi Mi hanno dato Una missione secondaria Devo ammazzare Il capo tribù Infetto Spero che sia quello Ah 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 Che cazzo corri Aspetta che Uomo d'acciaio Che c'hai disegnato La mappa del tesoro E muori Ah muori Muori Niente Ok Sono più furbi Ah Quello è il capo tribù Infetto Allora vediamo un po' Se c'è Ecco Merda Andiamo ammazzare quello C'è qualcuno Che mi corre dietro Mi sto per cagare sotto Dov'è Sento passi Lappertutto Oh devo ammazzare Quello da dietro Ecco scherzavo Oh 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 Troppa gente Troppa gente Merda Questi mi ammazzano Minchia Gli ho sparato Un turbine di pistole In faccia Non sono servite a niente Che spara questo Miniciccioli No Maledizione Maledizione